Sono passati più di 30 anni e l'ombra della banda, che all'inizio della sua storia, si dicevano esistesse, ancora si allunga sulla capitale. A trapelare dalle indescrizioni degli inquirenti sulla sparatoria avvenuta in pieno giorno all'orario di ingresso dei bambini all'asilo Mais e Girasole alla Magliana, il primo nome su cui si indaga è Augusto Giuseppucci, di 65 anni. Un nome che di suo può far suonare poche campane, se non fosse per la parentela con un ben più famoso Giuseppucci, per meglio dire famigerato. L'uomo è infatti il fratello di Franco Giuseppucci, detto Ernegro, primo boss della storica banda della Magliana, noto ai più col nome del libanese, datoli dal film e dalla serie tv Romanzo Criminale. L'uomo ucciso nell'agguato, Andrea Gioacchini, 34 anni, era uscito di prigione da soli 4 giorni dal carcere di Civitavecchia, dove si era presentato di sua volontà per scontare varie pene, tra cui la vicenda di rapina e tortura di un imprenditore che aveva visto coinvolta anche l'ex moglie del cacciatore Daniele De Rossi. Un gesto forse spinto dalla volontà di cambiare vita per la nuova compagna e le sue due figlie, ma qualcuno aveva qualcosa da fargli pagare e lo ha fatto sparando quattro colpi di pistola in sella ad uno scooter, uno di quali lo ha raggiunto alla testa, freddandolo. Un'esecuzione in pieno stile Banda della Magliana, ma anche un messaggio di forza e presenza sul territorio. Il killer, dalle descrizioni dei testimoni, risulterebbe molto robusto. Identikit, che ha fatto iscrivere il nome di Giuseppucci nel registro degli indagati, dopo che è stato fermato da una volante della polizia per un controllo e portato in questura, dove sarà sottoposto alla prova dello stub, cioè del tampone che può rivelare tracce di polvere da sparo anche dopo giorni. Si saprà così se a sparare è stata la mano del fratello del libanese, anche se il suo avvocato nega qualunque coinvolgimento e fa sapere che il suo assistito è pronto anche a sottoporsi al test del DNA.